C'è ancora il cuore che batte. Stupendo. È strepitoso, un'esperienza assolutamente da provare. Bellissima esperienza. Come stare dentro una realtà vera. Fighissima. Molto bello. Vi consiglio di guardare i film porno. Basta, smette imbecile. Voi dovete avvertire perché molti di noi hanno le vertigini. Devo mia molle, spetta. Perché lui non l'ha ancora fatto. C'è uguale come a casa, uguale. Ehi, prendi quel, vieni qua per il biglietto con la mano a cuore. Però ho avuto la sensazione di essere in un'altra realtà, ma non virtuale, assolutamente reale.